... Dovrà essere ora la magistratura a farsi carico del riscontro delle denunce emerse nell'ambito del lavoro portato avanti dal comitato di sette associazioni tra cittadini ed esperti sull'allarme inquinamento e sull'aumento sempre più preoccupante di patologie oncologiche anche dei bambini. Il nostro compito è di sollecitare la giusta attenzione della Procura della Repubblica e degli inquirenti non solo sui responsabili degli sversamenti, dicono, occorre fare chiarezza sui killer della salute e su chi sta ipotecando il futuro di questa terra. Auspicano indagini a tappeto i rappresentanti del comitato, sugli autori, sui responsabili delle omissioni, ricercando colpe e colpevoli. Si sposta dunque l'asse della strategia portata avanti fino ad ora, non più solo la denuncia pubblica ma la richiesta forte ed impellente dell'intervento della magistratura. Lunedì mattina infatti i rappresentanti del comitato incontreranno il PM per discutere del corposo fascicolo presentato qualche giorno fa chiedendo di aprire immediatamente un'indagine per dire basta al grido di dolore e di aiuto rimasto per troppo tempo inascoltato. Sono le conclusioni raggiunte ieri sera dopo il nuovo incontro svolto. Si non si può più accettare il palleggiamento di responsabilità tra amministratori, enti, organismi, istituzioni competenti. Tutti hanno una responsabilità ma nessuno se la assume. Auspicavamo risposte con azioni concrete. Chi ha l'obbligo giuridico di intervenire per operare i controlli ed evitare questo disastro e non l'ha fatto, ha assunto una condotta equivalente a chi ha commesso un reato, quindi va punito. Il comitato procederà per step. Verranno coinvolte le dirigenze scolastiche affinché si allertino su un problema importante a preoccupare proprio la salute dei bambini che respirano l'odore nauseabondo che soprattutto d'estate ma non solo si alza da Cavaiolo e Solofrana e che attraversa la città portando con sé sostanze inquinanti che raccolgono lungo il loro percorso ed attraverso nel centro nocerino a cielo aperto una bomba ecologica ad orologeria per i cittadini di Nocera che respirano un mix tra metalli pesanti e sostanze cancerogene. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti. Si stanno sviluppando forme preoccupanti sia dal punto di vista numerico che dell'aggressività di leucemie infantili e sta aumentando il numero di decessi. Questo fiume unito all'area insana che respiriamo dicono ci sta uccidendo.